L'idea dell'ultimo incontro è quello di fare un po' il punto sullo stato del rapporto tra industria, adovisiva e turismo e quindi inviterei qui al tavolo Stefania Ippoliti dell'Italian Film Commission, Presidente dell'Italian Film Commission, Fabio Abagnato, responsabile Emilia Romagna Film Commission, Adriano Bizzocco di Aesby e me stesso. E se siete d'accordo faccio una cosa che potrebbe sembrare poco, cioè genere l'ospite parla per ultimo, però siccome ho da mostrarvi dei dati che potrebbero essere in realtà interessanti anche per la discussione tra noi quattro e con il pubblico, siete d'accordo? Inizierei io i primi 5 minuti, no, potremmo stare se qui, vorrei solo dirvi che vi rubo, inizio subito io a parlare, poi circa lo scorso, è stato credo maggio, aprile maggio, abbiamo somministrato un questionario online che a cui forse molti di voi, alcuni di voi hanno risposto e oggi vi mostrerò i risultati, perché ancora non sono stati resi pubblici, ma non è una cosa scientifica in assoluto, è un questionario somministrato in canali di videogiocatori, forum di videogiocatori, canali facebook, quindi si è rivolto ad un pubblico di videogiocatori che voleva un po' indagare quale sia il loro rapporto, la loro consapevolezza del rapporto tra videogiochi e luoghi reali. Sono emersi alcuni dati interessanti, non sono ancora definitivi, stiamo ancora spogliando e a breve faremo anche un articolo sul nostro portale più approfondito, però volevo un po' accennarvi questi dati perché emergono anche delle riflessioni che hanno lasciato questi giocatori, che abbiamo raccolto e su cui poi potremmo parlare anche insieme. Abbiamo chiesto innanzitutto ai giocatori, abbiamo avuto in tutto 827 risposte, quindi anche un campione discretamente significativo di giocatori. La maggior parte di questi giocatori avevano un'età compensata ai 20 e 34, quindi comunque un pubblico mediamente adulto e le tre fasce con maggior numero di giocatori erano quelle 3,19, 20 e 34 e 35 e 44. Ma quello ci interessava un po', non era veramente il fulcro del nostro questionario, però era giusto per iniziare a rompere il ghiaccio e fare la prima domanda ai giocatori. Quello che ci è un po' interessato, in realtà vi anticipo subito che il questionario ha in parte confermato quello che già un po' ci si aspetta. Perché abbiamo chiesto, hai mai giocato a videogiochi ambientati in luoghi reali? E' emerso che sì, 93%, no e il restante, quindi la maggior parte ha detto sì. Che era più un'idea di, per capire un po' anche la loro consapevolezza rispetto al fatto che nei giochi ci sono e ci siano appunto luoghi reali. Però abbiamo chiesto a loro quali fossero questi giochi. Allora qui non ho il dato come slide, perché il dato è ancora da cellulare, con i dati definitivi, è qui sotto, con i dati dei giochi più citati. Abbiamo preso in considerazione le risposte con più di 10 occorrenze, quindi abbiamo considerato quelli. Ovviamente al primo posto il gioco più citato, lo lascio dire a voi. Quindi questo ha confermato ma con centinaia di risposte, quindi un distacco rispetto al secondo notevole. Vi dico i primi 5, anzi i primi 10, poi vi darò i dati quando faremo l'articolo perché vorrei metterli online più dettagliati. Il secondo più citato è Watch Dogs, il terzo è Spider-Man, il quarto è la serie Uncharted, Tomb Raider, The Division, Call of Duty, Yakuza, The Town of Light e Battlefield. Sono i primi 10. Nei primi un po' andando sulle opere commerciali, quindi le opere più tradizionali, se si iscritte ovviamente a stravinto. E questo ovviamente va a incidere anche sul discorso turistico e l'esplorazione del luogo. Abbiamo chiesto loro, hai mai deciso di visitare un luogo reale dopo averlo visto citato, rappresentato in un videogioco? In realtà è un 50-50, sì, è 47.9, quindi 48, no 52. Quindi si parla dell'averlo già fatto. E in questo caso abbiamo chiesto quali sono i luoghi che avete già visitato grazie ad un videogioco? Ed emergono questi dati. Assassin's Creed che influenza? Cioè Firenze ha più di 100 persone che hanno risposto Firenze, poi segue Monteriggioni, Venezia, Roma, Parigi, San Gimignano. Curioso che Monteriggioni doppi San Gimignano, ma perché? Perché la casa è del suo auditore, quindi ovvio che nei giocatori ha avuto molto più impatto Monteriggioni che non San Gimignano. Poi c'è Londra, c'è New York e c'è Los Angeles, però anche qui è evidente l'effetto Assassin's Creed secondo me, adesso questa è una mia ipotesi ovviamente, però si vede proprio o sono pigri, o hanno risposto pigramente, ma non credo, perché poi in realtà anche quello, noi abbiamo detto loro, ti ricordi qualche gioco che hai giocato? In realtà molti hanno detto, me ne ricordo tantissimi, però segnalo questi. Anche scegliere di segnalare questi vuol dire che gli sono rimasti più impressi, quindi non è un dettaglio da non considerare, di quelli che vengono citati rispetto a quelli che per qualche motivo vengono dimenticati o non citati. Quindi, tra i luoghi già visitati, vince Firenze, cioè perché indotto da un videogioco a visitarli. C'è un luogo reale, ci lato rappresentato in un videogioco che vorresti visitare in futuro, qui è il lato più interessante, dimostra l'intenzione di farlo, quindi magari se è 50-50, quindi sì l'ho fatto, 50% no non l'ho fatto, però quasi l'80% desidera farlo di questi 800, mentre il no 20%. In realtà sono un po' meno quelle risposte perché chi ha detto non ho mai giocato ad un gioco andava direttamente in fondo al questionario, per cui per quello vedete meno risposte, perché ovviamente se non l'ha mai giocato un gioco andato in un luogo reale non è che poi potesse rispondere alle altre domande. Comunque c'è un luogo che vorresti visitare, 80% sì e 20% no. Quindi c'è un'intenzione, quanto meno un interesse, a visitare luoghi reali a partire dai giochi che hanno giocato. Vediamo quali sono questi luoghi, abbiamo chiesto a loro qua se sì, quale luogo vorresti visitare. Vince il Giappone, è curioso perché se ci fate caso, solo nel caso di Giappone, Egitto e Grecia citano stati, tutto il resto citano città. Non è casuale nemmeno questo secondo me, perché il Giappone per un videogiocatore va al di là della città, cioè il Giappone è il videogioco, per cui sono cresciuto con giochi giapponesi, mi hanno indotto a diventare, io stesso ho fatto un viaggio in Giappone perché sono nerd. Poi molti di loro citano Tokyo, però non interessava in realtà, è un accorpato a Giappone, in questo grafico di oggi più semplificato, per mostrarvi come nel caso dell'intenzione di viaggiare rispetto a un gioco che hai giocato, vince il Giappone, segue New York, Parigi, Firenze, Firenze comunque è sempre alta. Cioè loro ci sono già stati e ci vogliono andare, comunque Firenze c'è poco da fare, bisogna riuscire a un po' a scalfire questo primato, allargare le venute forse dei giocatori. Poi si va a Londra, Los Angeles, appunto l'Egitto, insomma qui c'è di mezzo Assassin's Creed Origins, Venezia, Roma, torna a Monteriggioni come desiderio di visita, San Francisco, Istanbul e Grecia. Origins E poi finisco questa piccola disamina dei dati, abbiamo chiesto loro una domanda molto semplice, anche forse tendenziosa, quindi questo dato qua non ci interessa tantissimo, perché pensi che videogiochi possano essere utilizzati, essere uno strumento utile per incentivare il turismo alla scoperta del territorio? Hanno detto sì quasi tutti. Voi direte perché tendenziosa? Perché il questionario partiva da Ivipro e quindi magari colui che risponde tende a voler assecondare colui che fa la domanda, ipotizzo, solo faccio un po' di ipotesi, di riflessioni a voce alta con voi. Comunque la maggior parte ha confermato che secondo loro l'impatto c'è, possono essere uno strumento utile. E qui poi abbiamo raccolto come risposta libera perché secondo te è utile o perché non è utile se hai detto o no. Quindi qui hanno risposto, non tutti perché non era obbligatorio la seconda parte, ma hanno risposto di questi 800, credo quasi 500, con risposta libera. Abbiamo raccolto più che altro delle risposte di senso, cioè se in tante abbiamo letto ogni risposta, quindi è un lavoro molto divertente. E abbiamo raccolto i temi che tornavano di più in queste risposte, tipo se inventano e ho detto sì perché il gioco mi rende curioso, quello è un gruppo di senso. Partiamo dai motivi per cui hanno detto sì, quelli più significativi. In 49 risposte emerge questo dato, cioè il videogioco estende la possibilità dei luoghi visitati rappresentati e al tempo stesso quelle del visitatore, consente cioè di mettere in luce caratteristiche altrimenti invisibili dei luoghi, facendo per esempio rivivere un sito archeologico, di spostarsi a visitare il mondo a chi non potrebbe, per limiti economici e per ignoranza, e di conoscere mete altrimenti sconosciute. Quindi questa è una delle motivazioni più utilizzate nel rispondere sì. La seconda è interessante, la componente immersiva. Il videogioco, grazie alla componente immersiva e interattiva, è molto più efficace degli altri media, quindi fanno un discorso di confronto e delle arti per spingere il pubblico a esplorare luoghi reali e conoscerli. 43 risposte, quindi in 43 risposte emerge questa idea. L'ultima è l'apporto emotivo che mi ha molto colpito, cioè massima risorsa del videogioco è il suo apporto emotivo, cioè grazie a emotività vissute in game i giocatori hanno un bagaglio inedito che può muoverli a conoscere o visitare mete più o meno battute. 36 risposte. Poi ci sono altre motivazioni ma qui abbiamo messo quelle che hanno trovato più spesso nelle risposte del sì. Andiamo nelle risposte del no. Il videogioco non funziona o non può funzionare in relazione al turismo, i suoi focus sono altri e la sua eventuale efficacia per la promozione dei luoghi è puramente coincidenziale. Quindi coincidenza, se funziona è pura coincidenza, in 16 risposte di chi ha detto no. Il videogioco ha e come potenzialità turistiche ma occorre ripensarlo, migliorarlo, integrarlo o comunque evolverlo secondo precise direzioni affinché ottenga risultati concreti. 6 risposte. Poi l'ultima, sono solo due risposte però mi interessava quanto fossero intransigenti in queste due persone. Il videogioco non dovrebbe essere utilizzato in relazione al turismo e quando viene usato per scopi culturali e promozionali o cessa di essere un buon videogioco o forza la propria componente ludica o diventa un becero strumento pubblicitario, quindi becero. E' interessante perché quindi chi risponde no da queste tre motivazioni. Io volevo buttare prima di iniziare questo discorso perché magari da queste cose che abbiamo appena detto può emergere qualche riflessione che può coinvolgere noi al tavolo, può coinvolgere voi e quindi poi di questo questionario faremo un articolo un po' più approfondito però volevo mostrarvelo oggi in anteprima assoluta. È stato un primo questionario, ne faremo altri in futuro però con poche domande per cominciare un po' a indagare sull'effetto del cosiddetto turismo videoludico e del gioco come strumento di divulgazione. Io non dico altro, in realtà lascio la parola ai miei compagni di banco e direi che partiamo da Stefania se sei d'accordo. Ci presentiamo un po', poi in realtà l'idea come vi dicevo è quella di chiacchierare, di parlare anche di quello di cui abbiamo parlato in questi due giorni perché poi gli protesti finiscono dopo questo incontro quindi il momento giusto per dire quello che pensiamo dei temi affrontati o quello che speriamo possa accadere in futuro rispetto anche alle politiche di valorizzazione del videogioco e chi meglio di loro che comunque sono più vicini a questo tema dal suo fronte industriale, dal fronte delle film commission può dire la sua. Quindi lascio la parola a Stefania. Grazie. Io dirigo la film commission della Toscana ma mi occupo da qualche anno del coordinamento di tutte le film commission delle regioni italiane. Spesso noi parliamo di che cos'è il nostro mestiere, di che cosa dobbiamo fare e uno dei temi che condividiamo tutti è quello che la produzione, l'opera audiovisiva non deve mai essere ancella di un compito che non sia quello della qualità del racconto, dell'efficacia del racconto anche se le risorse che noi adoperiamo spesso vengono non solo dalla cultura ma anche dallo sviluppo economico e quindi anche dal turismo e difendiamo tutti quanti con grande determinazione la libertà di creazione, il senso primo che è quello della qualità della storia. Poi certo siamo consapevoli che l'effetto di una fiction, di un film, di un documentario, di un prodotto d'animazione è molto ampio quindi può, come abbiamo visto anche nel caso dei videogiochi, far venire voglia di conoscere un luogo, un posto, può offrire occasioni di lavoro, può essere lo strumento attraverso il quale riusciamo a raggiungere un target di popolazione per condividere magari qualche cosa che secondo noi è un tema da affrontare con strumenti non consueti e lo dico perché poi vorrei il vostro parere rispetto alla possibilità che i videogame siano pur mantenendo prima di tutto, come dicevo in premessa, la loro qualità di racconto, la fascinazione del gioco, possano essere anche uno strumento nel quale si sviluppano alcune sensibilità su dei time importanti. Quindi noi tutti crediamo che prima di tutto vada difesa la libertà creativa e il lavoro e del creatore, dell'ideatore e anche il mestiere del produttore. È un discorso non banalissimo naturalmente perché poi noi rispondiamo alle nostre regioni, utilizziamo dei soldi pubblici, in qualche modo un ritorno ci viene chiesto e noi siamo attenti a fornirlo. La decisione della Sardegna e di altre regioni di incoraggiare, di prevedere degli aiuti, delle agevolazioni anche per i creatori e produttori ai videogiochi mi trova molto convinta. Non tutti siamo nella condizione di farlo ma tutti come obiettivo vogliamo trovare dei modi di sviluppare questa parte della produzione audiovisiva, per una serie di motivi. Nessuno ha potenzialità di internazionalizzazione rispetto alle risorse umane ma anche al posizionare il nostro territorio in un panorama globale tanto quanto chi fa videogiochi. Non c'è film o fiction che tenga. Quello che abbiamo capito è che chi si occupa di videogiochi ha una naturale predisposizione a non sentirsi legato soltanto a un luogo dove magari ha delle salde radici e questo non è in discussione ma l'abitudine è quello di uno sguardo aperto che è una cosa formidabile che non va indotta, che c'è ed è una ricchezza per noi, un punto di forza. Abbiamo anche pensato che per far crescere il settore dei videogiochi e a riflettere su questo ci ha aiutato molto il confronto anche con l'Associazione degli Sviluppatori, con Aesvi, dovrebbe contribuire anche il fatto che partisse con più determinazione una committenza pubblica perché le dimensioni dei produttori di videogiochi siano meno piccole ci sia la possibilità che da una parte questa sia una professione che dà loro da vivere delle prospettive significative. Noi crediamo che sia importante che il pubblico pensi che nelle strumentazioni su cui decide di investire per una serie di motivi anche ampi, persino quelli di descrivere le proprie politiche o di intervenire sugli stili di vita o di voler fare arrivare un messaggio o un altro, diventare committenti di videogiochi, magari di serious game o applied games, sia una cosa importante. Non è un tema banalissimo, noi crediamo che se le film commission delle regioni lavorano su queste insieme all'Associazione degli Sviluppatori dei risultati li potremmo ottenere. Insieme a Aesvi noi stiamo, poi Adriano ci aiuterà su questo anche, stiamo lavorando per mettere a punto un'occasione di confronto dove vogliamo invitare a novembre in Toscana, a Pisa in particolare, a ragionare su questo una serie di figure di decisori delle amministrazioni pubbliche perché quando allocano le loro risorse tengano bene in mente che investire, fare dei bandi naturalmente le modalità sono quelle che la pubblica amministrazione richiederà, fare dei bandi per progettare o sviluppare dei videogiochi che ci aiutino ad affermare alcune cose o anche solo a far conoscere meglio alcune modalità di politica pubblica sia molto importante. Quindi da una parte noi crediamo che una più convinta committenza pubblica possa aiutare le imprese degli sviluppatori a crescere di dimensioni e quindi a loro volta di dargli possibilità di investire in sviluppo, ricerca anche in tutte le fasi che servono per progettare un videogioco di respiro destinato ad avere successo, fascinazione e capacità di essere internazionale. Questo noi pensiamo di fare tutti quanti per cercare di aiutare la crescita di questo settore. Su questo abbiamo la piena condivisione anche di altri settori della pubblica amministrazione che intuiscono quante potenzialità ci sono in questo settore. Per quello che riguarda il nostro mestiere che veniva raccontata, la bella esperienza fatta in Sardegna si arriva, abbiamo mandato la nostra storia, ci viene fatto trovare un itinerario, lo facciamo rapidamente. Questo è il nostro prossimo obiettivo, tutti quanti le Fincommission di ogni regione sono organizzate in un modo molto efficiente nell'organizzare questi scouting per le location. Come vi immaginate è naturale che i colleghi della Sardegna investano anche sul concorrere alle spese. Sardegna è un'isola quindi ha tutto un problema di trasporti maggiore rispetto a chi sta in Emilia Romagna o in Toscana dove il tema magari è un treno e un paio di giorni d'ospitalità che comunque mettiamo in conto di dare. Quindi siete assolutamente nei radar di tutte le Fincommission. Ognuno di noi si deve confrontare con gradi diversi di condivisione che abbiamo rispetto ai nostri amministratori. Ma questo è un percorso che si è aperto con grande determinazione e senza incertezze. Quindi su questo credo che ci sarà molto da lavorare ma con soddisfazione. Mi fermerei qui perché ci tengo molto a sapere come la vedete questa idea. Noi in Toscana abbiamo deciso di fare un bando, un bando di una certa importanza con delle risorse per noi significative per affrontare il tema del rischio idrogeologico. ma dentro una storia che deve essere fascinosissimo giocare e non viceversa. Mantenendo le priorità che dicevo. Grazie Stefania. Io a questo punto farei già passare la parola a Fabio Abagnato dell'Emilia Romagna Fincommission perché puoi raccontarci anche un po' visto che siamo in Emilia Romagna, come si sta lavorando in tal senso. Buonasera a tutti e anche complimenti per questi due giorni che con Andrea abbiamo programmato da tempo e che arriviamo alla sua conclusione. Vado un po' diciamo prima raccontando quello che facciamo e non facciamo noi. E poi invece entro un po' nel merito anche di alcune riflessioni che faceva Andrea nel restituirvi i dati del questionario. Intanto quello che non facciamo è non diamo soldi ai prodotti. Noi abbiamo un programma triennale in questo momento, 2018-2020, che esclude il finanziamento da alcuni prodotti, tra cui i videogiochi. Non lo dà ai format televisivi, non lo dà ai lungometraggi e cortometraggi di finzione, ai documentari e alle serie televisive. Siamo però all'interno della legge cinema. Quando parliamo di videogiochi, secondo me non possiamo utilizzarli in maniera vaga, perché anche le risposte che io ascoltavo da Andrea ci restituiscono un panorama molto articolato tra gli sviluppatori. Ci sono sviluppatori che immaginano la loro professione come un linguaggio artistico, ci sono degli sviluppatori che sono dei professionisti abituati a lavorare sulla committenza. Ci sono degli sviluppatori che immaginano un prodotto in quanto tale, ci sono degli sviluppatori, e diciamo tutto il lavoro di ESVI va in questa direzione, in cui lo sviluppo di imprese e di reti di impresa è invece alla base della della sua politica. Per questo a me non piace parlare, così come non piace parlare del cinema in maniera vaga, non mi piace neanche parlare del videogioco in maniera vaga. Sappiamo cosa non facciamo, cioè con i fondi del cinema in questo momento non sosteniamo prodotti videoludici. Questo però non ci ha escluso la possibilità di attivare una convenzione triennale con i Vipro per cominciare a capire che cosa può muoversi nel mondo emiliano-romagnolo del videogioco. Abbiamo battagliato perché ci fosse la possibilità di finanziare corsi di formazione in cui il mondo del videogioco fosse compreso, cosa non possibile fino a due anni fa, voglio dire, non si alzavano le barriere rispetto. E quello che siamo disponibili a fare è attivare una relazione in cui, a seconda anche del grado di maturazione e di qualità del prodotto, si possa ragionare con altri settori della regione per, come dire, attivare politiche a favore dello sviluppo delle imprese di videogioco. Però come succede per il cinema dipende molto da come vi percepite voi, nel senso che la pubblica amministrazione a domanda risponde. Se tu partecipi ad un bando in cui l'oggetto è un prodotto di qualità legato al linguaggio artistico, verrai valutato per quello. Se invece cominci a dialogare con le attività produttive per capire quali sono le azioni positive per sviluppare le competenze d'impresa tanto assenti nel vostro mondo, perché nel vostro mondo c'è una carenza di cultura d'impresa, come c'è per molti ambiti del nostro settore cinematografico, con Stefania su questo stiamo lavorando e seguendo anche lo sviluppo delle organizzazioni di categoria che promuovono azioni in questo senso, si ragiona con le attività produttive. Altro è, come diceva Stefania, se invece si ravvisa la necessità di aprire dei tavoli in cui il linguaggio videogioco, il codice, possa essere utile anche ai fini più generali di politiche di sviluppo di azioni positive, di comportamenti virtuosi. Allora c'è l'ambiente, ricordo quando mi presentarono il videogioco sul commercio ecosolidale di ormai quasi una decina d'anni fa, direi, per promuoverlo nelle politiche giovanili, era un gioco che se non sbaglio era legato alla storia del cacao, al percorso del cacao. Invisible Land, sì. Però è un'altra cosa, ci possono essere soldi per questi prodotti, ma non sono soldi per il videogioco, sono soldi per un'impresa che accetta una committenza e diventa partner della pubblica amministrazione per raggiungere una politica generale. E così come una volta si facevano dei manifesti, oggi si può utilizzare un videogioco. Una società che, se non sbaglio, è la stessa che ha fatto il gioco a San Leo e oggi nella Rocca Paolina di Perugia promuove, attraverso le competenze di una bravissima regista del cinema di animazione come Monica Manganelli, la storia di Perugia in pillole ed è una società che si occupa di videogioco, una professionista del cinema di animazione che insieme hanno raggiunto un obiettivo di committenza del territorio di Perugia, ma non è un videogioco, è sostanzialmente un racconto per immagini, immersivo, è un altro sviluppatore. Ma è giusto che ci siano sviluppatori e produttori che non coincidano e lì c'è il ragionamento sullo sviluppo di imprese. Quindi quello che noi possiamo fare è mantenere come dire aperta, la collaborazione con voi per capire quali strade si possono aprire. Secondo me la battaglia su andare ad aprire ulteriori possibilità nei bandi cinema di per sé rischia di diventare in assenza di aumenti di risorse una lotta anche tra virgolette ingiusti, anche una lotta tra poveri. Il tema vero è come tutto il mondo dell'audiovisivo rafforza la sua cultura di impresa e va a diventare un perno del tessuto industriale di un territorio. Cioè la cosa su cui noi come film commission spesso cerchiamo di spiegare, il tema non è il bando, il tema non è se fai un film, il nostro tema è come rafforziamo identità e opportunità in un territorio. Accanto alla visibilità ci sono le opportunità e lì il nostro master è il territorio, non è che è il prodotto di qualità in quanto tale e basta. Spesso noi dobbiamo valutare un prodotto di qualità anche in relazione al suo radicamento territoriale, anche in relazione a incidenza occupazionale, valorizzazione di una cultura identitaria. Certo poi il nucleo valuta la qualità di un prodotto finale, però ci possono essere finanziamenti alle imprese che rafforzano invece questi altri obiettivi. Sono stato un po' articolato, però spero di aver spiegato cosa facciamo. Comunque adesso passo la parola ad Adriano e poi cominciamo la parte finale con un po' di dialogo con voi. Adriano, il ruolo esatto qual è in ASVI? Public Affair Manager di ASVI, l'associazione editori e sviluppatori videogiochi italiani. Quindi adesso passiamo un po' dal lato industria. Sì, allora intanto un grosso ringraziamento va a Ivi per aver organizzato questo evento, questo appuntamento e c'è sempre bisogno di avere appuntamenti e occasioni di confronto di questo tipo. Devo dire che ho accolto in modo estremamente positivo l'intervento del dottore Bagnato perché c'è bisogno secondo me di fare innanzitutto chiarezza, chiarezza in alcuni termini, in alcune definizioni per offrire soprattutto a chi ci ascolta oggi una chiave interpretativa corretta di tutto quello che è stato detto fin qui in questi due giorni e quello che è stato mostrato. Perché qui giustamente parliamo del rapporto di videogiochi con il patrimonio e con il turismo ma parliamo di due mondi e due approcci completamente diversi che scatenano dinamiche completamente diverse. E quindi dal punto di vista dell'industria ci tengo in premessa, e spero che sia una premessa breve, a offrirvi una chiave di lettura in questo senso. Iniziamo da un tema. Si è toccato il tema della promozione turistica e quindi del ruolo del film commission a supporto degli sviluppatori, quindi delle produzioni di videogiochi. Parto con un esempio che è noto a tutti. A Matera l'altro giorno c'era la produzione del prossimo film di James Bond che è andata lì per girare 18 minuti mi pare di pellicola con un investimento dei 12 milioni di euro e hanno fatto questo intervento, questo investimento sulla città di Matera. È una grossa IP internazionale, una grossa proprietà intellettuale internazionale che decide di ambientare un pezzo di quella produzione su un territorio specifico e a sue spese fa un investimento sul territorio, il territorio ne ricaverà come risultato grazie alla estrema visibilità e l'estrema redditività ovviamente di quella proprietà intellettuale ne ricaverà un boost di visite turistiche, di visibilità e quant'altro in tutto il mondo. Ora pensate, a parte invertite, se la città di Matera avesse voluto fare un investimento su Asponte per portare una produzione cinematografica Matera con Daniel Craig, quella roba lì e fare un bel film ambientato a Matera, un film magari di agenti segreti eccetera e doveva cacciare dei soldi avendo una disponibilità finanziaria di base che forse era su quel tipo di intervento per quel capitolo eccetera, forse era l'1% del budget complessivo o forse anche meno del budget che verrà impiegato per fare il film di James Bond. Quindi il primo discrimine da avere bene in mente è quello che nel momento in cui l'industria, quindi anche quella dei videogiochi con degli esempi come quelli di Assassin's Creed o di altri titoli che hanno un altissimo impatto commerciale, un'altissima diffusione e quindi sono delle proprietà intellettuali molto molto pervasive nei dispositivi dei giocatori di tutto il mondo, decide di ambientare, diciamo di ricavare degli asset presenti nella realtà sul territorio per ambientare il proprio gioco a un pezzo del proprio gioco e quindi in questo senso dare visibilità a quel territorio e valorizzarlo, siamo in presenza di una situazione in cui è il privato, è l'azienda, dell'industria che ha deciso di puntare sul territorio, di valorizzarlo o di valorizzarne alcuni elementi, non necessariamente gli asset paesaggistici ma anche solo degli asset che vengono dal folklore, dal background storico, da quello che volete voi e a quel punto il tema è essere supportati dal territorio in modo tale da poter avere tutte le informazioni necessarie, tutto il supporto logistico necessario in loco per sopralluoghi e quant'altro e in questo senso il ruolo delle film commission è un ruolo evidentemente cruciale e a me fa piacere sapere, ma è così non da oggi, da tempo ma ce ne vorrebbero sempre di più, aziende italiane che puntano sullo sviluppo di una proprietà intellettuale italiana come era il caso di Santa Ragione, come è il caso degli amici di Broken Arms Games con 100 Days eccetera, cercano di sviluppare una proprietà intellettuale italiana con un proprio sforzo, un proprio investimento anche economico ricevendo il supporto del territorio e portando questa IP potenzialmente, ce l'auguriamo tutti, a livello su scala globale a sfondare e quindi a dare visibilità globale. Diverso è quando è il pubblico che ha un suo patrimonio ovviamente in pancia e noi e l'Italia diciamo che è strapiena di patrimonio, di asset paesaggistici, culturali, archeologici e chi più ne metta e ha un'esigenza ovviamente di valorizzazione di questi asset, valorizzazione che punta ovviamente ad avere un ritorno turistico, un ritorno di visibilità, un ritorno di partecipazione sul territorio e quindi ad alimentare un indotto e tutto quello che vogliamo. È chiaro che il videogioco in questo senso rappresenta uno strumento di valorizzazione straordinariamente efficace al giorno d'oggi per raggiungere soprattutto un target che non legge molto i giornali, non legge molto i magazine, non guarda la tv, non è ricettivo rispetto a quelli che sono gli strumenti tradizionali o quelli del passato. E a questo punto scatta la dinamica del committente pubblico che proattivamente va a cercare l'industria per avere una produzione, un prodotto che sia funzionale a questo tipo di obiettivo. Ed è chiaro che, e qui arriviamo a secondo me un secondo chiarimento che è necessario e subordinato a questo discorso, è chiaro che dire videogioco, come si diceva giustamente prima, significa dire tutto il contrario di tutto, perché ci sono n tipologie di videogiochi, n tipologie di approcci a livello di business model del videogioco, cioè il videogioco abbiamo avuto in questi due giorni alcuni esempi, può essere gratuito con acquisti in app, può essere completamente gratuito, può essere a pagamento, può essere declinato in tanti business model differenti, può avere tanti metodi di fruizione basati su tanti dispositivi, tante tecnologie, eccetera, eccetera. Questa ampia, ampissima gamma di possibilità dello strumento si coniuga con un'altrettanta ampia gamma di competenze e di possibilità che l'industria italiana offre, perché noi al nostro interno abbiamo aziende, team, a me piace dire aziende, poi ci torniamo su questo punto, abbiamo aziende che hanno competenze variegate, specifiche, che possono offrire, possono mettere a disposizione del comitente pubblico un know-how specifico ed efficace su varie tipologie di videogioco e il comitente pubblico che deve avere, e anche qui ci torniamo dopo, torno su tante cose ma cerco di accelerare, deve avere degli obiettivi chiari in testa, deve scegliere, per quanto possibile deve avere la capacità di scegliere e di affidarsi al fornitore, perché di questo si tratta in questo schema, più adatto, più in linea con quelli che sono gli obiettivi di questa committenza. Ora, ci sono alcune criticità in questo schema, evidente, ci sono alcune criticità, alcune legate al fatto, diciamo, a fattori di contesto, al fatto che in Italia c'è una lentezza da parte del pubblico nel recepire il valore del videogioco, con le potenzialità e quindi nel superare alcune evidenti diffidenze che ci sono nei confronti del videogioco, però questo è un tema anche anagrafico, diciamo che il tempo gioca dalla nostra, da questo punto di vista. Ci sono anche delle criticità legate a quello che è il modo in cui il pubblico gestisce la committenza nei confronti del privato, soprattutto quando parliamo di un'opera, un prodotto complesso come il videogioco, che ha delle caratteristiche peculiari rispetto a come viene sviluppata la tempistica, alla necessità di asset, eccetera, e poi ci sono anche dei fattori di contesto tipici italiani che complicano ulteriormente la situazione, e cioè, faccio un esempio su tutti, e questo è importante dirselo e ripeterselo in tutte le occasioni possibili. C'è sempre il rischio che si pensi che i videogiochi sono giochini, per cui io con due spicci posso fare il videogioco che farà un milione di non so cosa, di download, piuttosto che di partite avviate, eccetera, per cui tutto sommato anche il più piccolo ente pubblico con la più bassa disponibilità di risorse possibile, può pensare che andando sul social network, affidandosi al wannabe guru di turno, eccetera, che magari non ha nemmeno un team alle spalle, eccetera, possa con, faccio un esempio, 10.000 euro, fare il videogioco che farà il botto, fa un'assignazione diretta, eccetera, e poi la roba muore lì e muore male, perché è chiaro che questo non è uno schema serio. Dobbiamo tutti essere consapevoli, il pubblico prima di tutto, ma anche gli sviluppatori che noi rappresentiamo, che sviluppare videogiochi è un'attività di impresa, punto primo. Poi uno può avere un approccio autoriale, può avere un approccio più, diciamo, scientifico, tra virgolette, passate in questa forzatura lessicale, eccetera, ma sta di fatto che gestire lo sviluppo del videogioco significa gestire un'attività imprenditoriale. Noi siamo indietro su questo, diceva bene ancora prima il dottor Abagnato, cioè tanti sviluppatori partono, soprattutto quegli indipendenti, con l'idea creativa, per cui pensano che la loro attività sia legata all'idea, sia legata a quel primo prodotto, a quell'idea innovativa che rivoluzionerà l'universo, eccetera, e poi non si rendono conto che invece stanno avviando un'attività di impresa e devono sopravvivere a quel primo progetto e farne altri dieci e gestire in modo economicamente sostenibile la loro attività. Però d'altro canto è anche vero che il pubblico deve sapere che non affiderebbe mai il restauro del castello, di questo bellissimo castello, all'architetto pazzo di Ferrara che sta tutti i giorni sui social network a dire che lo trasformerebbe in un'astronave senza avere un'impresa idile alle spalle con cui fare nemmeno l'intervento e non glielo affiderebbe per 10.000 euro il restauro del castello. Il comune di Ferrara lo affiderebbe tramite un procedimento ben definito dalla legge con un importo, un budget adeguato al restauro del castello e lo affiderebbe a una ditta, non al guru, ma a una ditta che al suo interno ci avrà pure un guru, ci avrà pure un architetto, ma ci avrà pure n altre professionalità in uno schema che è serio. Noi qui in Italia, complice il ritardo che dicevo prima e che ancora scontiamo, abbiamo ancora troppi esempi di rapporti tra committente pubblico e privato che non rientrano in questo schema di serietà e per noi che rappresentiamo il settore questo è un problema, per cui noi ci sforziamo in tutte le occasioni possibili di spiegare da un lato ai nostri rappresentati, cioè ai nostri soci che sono imprenditori e devono essere consapevoli di essere imprenditori e comportarsi da imprenditori, molti lo fanno, d'altronde chi cresce, chi porta avanti con successo dei progetti e delle produzioni in Italia e per fortuna sono sempre di più, sono proprio quelli che si stanno strutturando con questa mentalità. D'altro canto proviamo a spiegare a tutti i livelli, al pubblico, dal locale al nazionale, che questo schema è quello che va perseguito, per cui a noi piacciono di più, lo diciamo proprio esplicitamente, a noi piace di più sapere che l'ente pubblico di turno decide di fare una procedura anche più complessa, magari a chiamata, invece di fare un'assegnazione diretta, a chiamata e da ASV c'è in questo senso perché noi abbiamo la fortuna di poter offrire un database di possibilità di imprese che operano in Italia con le varie competenze e specializzazioni di cui parlavamo in premessa, tali per cui il pubblico può fare un bel bando con un budget adeguato, che non è 10.000 euro, perché con 10.000 euro, sì, possiamo fare un giochino mobile, però voglio dire, poi valutiamo bene quali possono essere i risultati, eccetera, e l'impresa di turno partecipa, si candida, viene valutata, come giustamente veniva detto prima, per l'offerta che può produrre a livello progettuale, la migliore riceve la committenza e si va avanti così. Questo per noi quindi è un grosso nodo, un grosso equivoco da sciogliere in certi casi e diciamo, io mi fermo qui per adesso perché mi rendo conto che ho parlato troppo, però ecco, io spero che ci siano anche altri input e anche provocazioni o stimoli, domande, perché è bene chiarire tanti aspetti per poi procedere in modo più spedito. A questo punto io direi davvero, cominciamo a chiacchierare. Abbiamo 20 minuti abbondanti, quindi se avete domande, considerazioni, vedo già una mano alzata in seconda fila. Buonasera, grazie per essere qui. Io sono uno dei pochi privilegiati che ha seguito un corso IFTS dell'Emilia Romagna con patrocino anche dei fondi europei. Sono attualmente disoccupato, è un grosso problema per me, ho passato gli ultimi mesi a cercare un lavoro che non esiste qua in Italia, quindi cercherò di ripiegare su qualcos'altro, mentre studio, programmazioni, linguaggi, quello che mi viene richiesto dalle aziende. Io ho seguito anche quella che è una classificazione del gruppo IPID, fatto dal gruppo di svilupparti, dove abbiamo fatto letteralmente una ricerca di tutti quelli che sono i gruppi tra aziende e team informali che si dice essere indipendenti nel mercato e sono rimasto un po' scioccato perché ho fatto una scelta sbagliata di vita, a quanto pare, almeno qua in Italia. Siamo oltre 140, più di 140 gruppi tra piccole aziende e grandi aziende o piccolissimi e ogni anno si fanno sempre pochissimi giochi. Molte di queste aziende piccole sono delle scatole vuote che durano un momento giustamente, sono molto d'accordo con voi, perché si fanno pochi piani di impresa, sempre più giovani, anche meno giovani entrano e dicono voglio fare questo gioco, si fanno campagne di crowdfunding, si trovano dei publisher inesistenti in realtà e tutto finisce con un pugno di mosche. Però la mia domanda che rivolgo a voi, perché sicuramente voi potrete aiutarmi, è se io volessi investire quel poco denaro che ho, anche per rincorrere un bando che io so che è pochissimo, perché anche con 30.000 euro non si riesce a fare molto, oggigiorno se si vuole anche presentare qualcosa come primo gioco di una piccola casa di sviluppatore o un publisher, che sia anche italiano, tipo i 505 games o che sia in di gala, di solito il prezzo è 125.000-150.000 euro, sono tanti soldi, sono anche 4 banni messi insieme, di solito di più. Io cosa dovrei fare fisicamente per chiedere denaro, per dire voglio avviare un'attività, io non voglio fare un gioco, io voglio avviare un'attività con questo piano aziendale, questa distribuzione di 3 anni, ho questo budget, so che ho queste spese, avrò questo team, dove devo andare, da dove parto? A livello proprio giuridico, legale, come mi muovo? Allora, di dove sei? Di qui? Delle miglia? Adesso vi ho a Ferrara. Ok. Allora, è chiaro che qui apriamo un capitolo che forse merita anche di essere approfondito e ripreso, magari anche a margine, ecco, se abbiamo tempo poi una chiacchierata in più ce la facciamo. Però diamo quantomeno una indicazione di massima. Allora, in premessa, quello dei videogiochi è un settore, come tutti i settori creativo-culturali, ok, che stanno, diciamo che si riconducono all'industria dell'intrattenimento, è un settore ad altissimo rischio. È ad altissimo rischio perché è basato sulla proprietà intellettuale, cioè sul fatto che tu devi sviluppare una tua idea che deve funzionare sul mercato ed è molto più rischioso di aprire una ditta che fabbrica custodie per il telefonino. Allora, e quindi gira su dinamiche e su logiche completamente diverse. Questo significa che, e questo non so se viene detto nei corsi privati, e ce ne sono tanti, noi come ESBIN non ci occupiamo della formazione nel settore perché noi rappresentiamo l'industria. È un fenomeno, quello della formazione privata, eccetera, che esiste ed è un bene che esista, così come è bene che tutti quelli che ci entrano devono sapere, tutti quelli che vogliono avviare un percorso di formazione e quindi professionale all'interno del settore, devono essere consapevoli del fatto che entrano in un settore creativo, culturale, che come tutti gli altri settori creativi e culturali implica dei grossi rischi e delle dinamiche per cui si vive per fasi. Le aziende che operano in questo settore sono come delle fisarmoniche. I cicli produttivi di un videogioco implicano l'allargamento della base delle risorse umane impiegate dalle aziende e quando il ciclo produttivo si chiude le aziende solitamente si alleggeriscono. Questo riprodotto in scala quanto più si scende verso il piccolo diventa più complicato per la singola realtà che si lancia riuscire a strutturarsi per arrivare in fondo alla prima produzione e soprattutto sopravvivere al dopo quella prima produzione, sapendo che, e questo uno pure deve saperlo, che la prima produzione quasi mai è quella da cui poi ci si guadagna, si fa il botto e si svolta, anzi ci si fa male, ci si fa malissimo la prima volta. Il punto è reggere la prima botta e riuscire ad andare avanti a pianificare in modo economicamente sostenibile quello che deve essere il prossimo ciclo produttivo e quindi riuscire a iniziare a guadagnarci qualcosa, che non è facile. Allora uno che vuole entrare e vuole lavorare in questo settore quindi in partenza deve scegliere se vuole fare l'imprenditore e quindi rischiare avendo ben chiaro questo scenario oppure se specializzarsi, diventare un professionista in una delle n declinazioni di professionalità che sono richieste per lo sviluppo di un videogioco se vuole fare il programmatore ma il programmatore è specializzato in cosa? Nel fare gli shader con Unity o con Unreal Engine o nel fare scripting o nel fare altra roba o vuole fare il grafico ma che grafico vuole fare? Se vuole specializzare nella modellazione ai poli, low poli, vuole fare l'animatore che ce n'è un gran bisogno, vuole fare altre cose? Bene, sceglie il suo percorso in base anche alla sua naturale predisposizione, si specializza dopodiché si costruisce nel tempo libero, nel poco tempo libero che resta al netto dello studio ma in contemporanea e consigliabile, si costruisce un suo portfoglio di sperimentazioni, giochi indie, giochi one man team eccetera, fa tanta roba dopodiché inizia a girare tutte le aziende più solide, strutturate che sono nella fase fisarmonica, possibilmente quella espansiva e prova a entrare e si entra, perché ci sono tanti ragazzi che entrano in realtà italiane strutturate come Milestone, come Digital Bros, come tante altre, come Vosonico, non le voglio citare Q1 ce ne sono mille e mille più, ne sto dimenticando e me ne scuso oppure prova anche l'esperienza all'estero, perché questo è un mercato globale ma è anche un mercato del lavoro globale, perché è un mercato del lavoro, per cui si misura con l'esperienza estera prova a fare esperienza all'estero, si specializza ulteriormente e magari un giorno rientrerà e farà faville in Italia. Però il punto è questo, aver chiaro intanto se vuoi fare l'imprenditore o se ti vuoi specializzare fare il dipendente e magari rimandare l'ingresso nel mondo di impresa a un momento successivo e poi chiarirsi anche rispetto a quello che deve essere il percorso eccetera. Io qui l'ho detta in modo molto semplicistico, attenzione, però ecco questo è dopodiché se uno vuole fare l'imprenditore, gli enti locali, tipicamente le regioni, sono quelli che hanno più disponibilità finanziaria, di risorse, c'erano più dello Stato e più dei comuni poveretti sono quelli che stanno messi peggio, ma gli enti locali e le regioni, penso tutte le regioni, hanno programmi di finanziamento per le start up per fare questo tipo di primo passo, ci sono n declinazioni diverse a seconda dei territori di provenienza, uno fa la start up, ci sono anche dei programmi nazionali, delle agevolazioni nazionali per le start up, però non è neanche strettamente necessario arrivare a quello, perché sono bandi comunque più complicati e più strutturati e avvia l'attività, però appunto ben consapevole dei rischi e della complessità, non è un settore facile, è un settore molto competitivo, è un mercato estremamente competitivo perché è globale, tirar fuori la propria IP e portarla sul mercato nazionale è utile, è interessante, ti insegna tante cose, non ti ripaga dell'investimento, non ti fa guadagnare, non ti dà uno stipendio, il che significa che bisogna avere la capacità di misurarsi col mercato globale e quindi bisogna provare, riprovare, farsi male, sopravvivere allo schiaffo iniziale, mettere a valore quello che si impara e cercare di competere. Noi da canto nostro, come associazione di categoria, e chiudo perché parlo sempre troppo, cerchiamo di stimolare il pubblico e stimolare le aziende nel dare delle sponde, dare degli appigli, dei supporti eccetera, che siano finanziari o che siano formativi o che siano soprattutto in termini di occasioni. Quest'anno con Stefania abbiamo fatto la prima edizione di First Playable a Pisa inizio luglio, che è il primo evento italiano a proporre uno schema, diciamo fatto in un certo modo con un focus specifico sull'incontro B2B, cioè portare gli investitori, i player internazionali, soprattutto di rilevanza europea, in Italia a conoscere l'offerta progettuale degli sviluppatori italiani e a cercare di portare un investimento qui. Continueremo a farlo, insomma, se Dio vorrà, anche per i prossimi anni, crescendo sempre e più, con impegno rinnovato e crescente da parte delle istituzioni, dei nostri partner, come il Film Commission, come Fondazione Sistema Toscana, ICE, Ministero MIBAC, eccetera, cerchiamo di creare delle opportunità per tutti, però poi sta a voi lanciarvi in queste opportunità e possibilmente farlo anche in un modo competitivo, perché operare in questo settore, come in tanti altri, significa competere, sempre. Un piccolo appunto, quello che ho appena detto, comunque io mi sento di essere un in pass, come molti altri miei colleghi, perché a noi è stato detto, voi siete delle eccellenze, guardate all'estero, perché in realtà è che i professionisti non restano in Italia. Quindi io accolgo quello che mi è stato detto, ma la realtà è anche quest'altro pezzo, che la gente se ne va. Va via, io ho imparato tre lingue, io sono poliglotta, io sto studiando cose che non mi appartengono, ma giustamente perché in Italia il mercato richiede principalmente programmatori, non importa di che tipo, e artisti, anzi designer, perché l'artista, invece il designer, lavora con determinati strumenti. Però noi ce ne andiamo. Allora, se ci fosse un rappresentante, non so se qualcuno degli altri ospiti, amici, si prenderà l'onere di magari rispondere lato pubblico, però io da industria ti dico che, uno, ci sono anche delle eccellenze in Italia, strutturate. È chiaro, non abbiamo qui un'activision italiana, ma abbiamo delle realtà, qualcuna l'ho citata prima, che sono anche in crescita, che investono, lavorano con delle IP, eccetera, e sono delle realtà felici e positive, che possono anche offrire delle opportunità dal punto di vista occupazionale. Dopodiché, io da industria, io interessa che l'industria cresca in Italia, però il mercato del lavoro è globale. Se tu fai i prossimi dieci anni all'estero e ti specializzi all'estero e decidi tra dieci anni di tornare in Italia perché hai maturato un certo know-how, hai maturato anche una certa disponibilità finanziaria per investire e lanciare magari la tua impresa in Italia, e questo che sto citando è uno schema che è già avvenuto n volte, io sinceramente, è chiaro che a me piacerebbe che esplodesse tutto già qui in Italia, però sinceramente io non la leggo così male. Cioè il fatto di misurarsi con un'esperienza internazionale non è di per sé un male. Poi è chiaro che noi in Italia scontiamo una retratezza di sistema su cui noi stiamo lavorando faticosamente, speriamo di portare dei risultati nel tempo, per cui vorremmo che tutto esplodesse già qui da noi, che nascessero delle realtà e con degli investimenti importanti già in Italia, però la realtà dei fatti, nuda e cruda, è che al momento ci sono delle grosse possibilità di formarsi all'estero, fare un'esperienza lavorativa soprattutto all'inizio all'estero, cioè coglietela, perché no? Sì sì, ma io chiedo anche perché questo, in quello che è un evento di un'organizzazione che dice cerchiamo di portare territorio all'interno dei videogiochi, chi potrebbe fare videogiochi in Italia con il concetto della nostalgia di cui si è parlato anche ieri, il concetto dà il mio ricordo, il mio paese, se ne va. E adesso il paese c'è più ombra, perché costruzione di P, la costruzione di P è la costruzione di un prodotto della mia azienda, io non sto a fare il favore della mia nostalgia di quello che secondo me è un buon prodotto per me, io sto facendo un'analisi di quello che è il mercato, di cosa penso sui design che ho elaborato e che potrebbe andare. Quindi se voglio avere un'industria qui non la posso fare, quindi me ne vado, non trovo la necessità di tornare. Vedrò sempre francesi, canadesi, americani, brasiliani anche, che parlano del mio paese, facendo grandissimi titoli e magari io quando avrò cento e pastanni, se sarò ancora in vita, vedrò uno o due giochi dall'Italia veramente importanti, fatti con il concetto di un buon gioco che parla dell'Italia. Il problema secondo me che ha posto lui è ovviamente serio, viviamo tutti noi sviluppatori in Italia, nel senso io per esempio ho fatto il producer in questi anni in Italia, l'ultimo anno ho lavorato nel mobile, a ottobre, come sei anche tu Andrea, andrò via all'Italia, proprio perché Adriano voglio fare più esperienza, ambizioni, voglio imparare, voglio crescere, però giustamente il problema che ha posto lui, tu prima dicevi a un certo punto, probabilmente con un numero sparato così, non preso in serio, ci sono mille aziende che possono in realtà assumere, no, nel senso, sebbene vogliamo fare i nomi Ubisoft, Milestone, Ovo Sonico ha delle posizioni, c'è 34 big things, mixed bag, possiamo dire qualcun'altra, cioè insomma, se facciamo il rapporto fra persone che ovviamente cercano lavoro in Italia e che possono trovarlo, il rapporto è scarso, anche nell'ultimo rapporto a Esvi, numeri di Esvi, qua facciamo un miliardo e 8 di fatturato in un anno, contro i, quanti erano, 110 nel mondo, cioè siamo una goccia nell'oceano, questo mercato è piccolo, quindi in un modo o nell'altro è vero che andare all'estero è un'esigenza, è pur vero che lui dice, ok, siamo in un evento in cui vogliamo in qualche modo ragionare su come utilizzare i videogame per valorizzare il territorio, presumo italiano e i beni italiani e ci troviamo con un lack di professionalità che poi vanno all'estero, perché prima di me c'è gente molto più in gamba di me che è andata all'estero e che insomma sta facendo benissimo lì, quindi semmai, intanto piccolo inciso, lui diceva se volessi 100-150 mila euro per finanziare un videogioco dove dovrei andare? In un paese normale vai da un intermediario finanziario, una banca che magari vede in Canada, ha citato il Canada prima, più di buon occhio queste opere, oppure ci sono i business angels, qua noi non abbiamo business angels, Jason Della Rocca negli Stati Uniti ne ha finanziati l'ultimo anno, non so quanto, soltanto lui, più le altre associazioni che ci sono, quindi questo è un problema enorme, quindi è vero il consiglio, vattene all'estero, ahimè è triste purtroppo, ma è quello che dobbiamo fare, il discorso è linearissimo, non si può dire nulla, è vero d'altro canto che è un problema, capisco che tra l'altro, io non so ovviamente la sua esperienza, però quello che penso è prima di, è quello che di solito io o altri consigliamo a ragazzi un po' più giovani, prima di avviare il tuo progetto fai esperienza da qualcuno, fai esperienza in una grossa azienda, capisci quali sono gli errori che si fanno di solito in fase di sviluppo, che veramente il più grande insegnamento sono gli errori, in modo tale che poi quando sarai pronto potrai avviare il tuo gioco, fare altri errori, ma meno gravi di quelle che potresti fare. Allora, la domanda che faccio qua abbiamo appunto a ESVI e Phil Commission, ovviamente ESVI fa molto per il settore e insomma per noi è un punto di riferimento, quindi Adriano quello che magari ti chiedo è se puoi aggiornarci un po' anche, io so che c'è ovviamente un'attività per portare anche in Parlamento certe nostre esigenze, si parla del tax credit spesso, quindi se in qualche modo ci puoi dare una piccola overview di quello che state facendo perché è innegabile che il fattore politico è fondamentale poi. E mi ricollego anche alla Phil Commission a questo punto perché giustamente diceva prima, ok, adesso se mettiamo pure il videogioco fra le opere finanziabili andiamo a farci una guerra fra poveri perché le risorse, se ho capito bene, sono poche per finanziare già i film. Se ci mettiamo pure in concorrenza i videogame, insomma, andiamo a frammentare, questo se ho capito bene. Quindi magari chiederei pure l'altro Phil Commission se si sta facendo qualcosa, se si può fare qualcosa, più che altro per ampliare questa base di finanziamenti. Questo diciamo sono le linee. Assoluto. Perché mi sembra di non essermi allora spiegata e vi chiedo scusa. Quello che stiamo cercando di fare per esempio in Toscana con AESVI è allargare la committenza perché quello di cui parlate voi è un settore nel quale non si fa solo i creativi ma si fa gli imprenditori, l'industria creativa. In Italia... Se il producer non sono un creativo infatti, io sono quello che di solito ha bastoni creativi. Tanto più, se sei un imprenditore, perché nessun giovane imprenditore fa a meno di impattare con questi nostri problemi, per esempio di accesso al credito che è un problema gigantesco di questo Paese, non solo per il vostro settore. Con questo non ci arrendiamo, ma è dai tempi di Benigni che diceva che chi investe su di me tutti investono su quelli che le risorse ce l'hanno già. Questa crash di accesso al credito in Italia c'è ancora. Quello che cercano di fare le istituzioni, in questo caso locali, ma io penso che con AESVI questi temi si possono portare a livello nazionale e possiamo farlo come tavolo delle regioni. Quello che cerchiamo di fare, che cercavo di spiegare prima, è mettiamo sul tavolo committenza pubblica. Noi in Toscana faremo un bando dove mettiamo 180 mila euro. Vorrei averne di più, ma non ce l'ho. Ma è per un progetto e lo sviluppo di un videogioco. E questo è, diciamo, una pezzatura decorosa. Chi si assegnerà questo bando avrà avuto una chance importante di affermare le proprie capacità di imprenditore. Quell'imprenditore che avrà messo insieme dei creativi e via e via e via. Se riuscissimo a rendere questa cosa contagiosa in modo tale che non fosse solo la Toscana, ma fossero anche le altre regioni d'Italia e i ministeri, per esempio, le direzioni nazionali che pensano usiamola di più questa cosa, facciamo crescere gli imprenditori. Poi non ci saranno più soltanto 7-8 imprese presso le quali si può trovare lavoro quando si è giovane o abbastanza giovane. Poi magari chiedo a Adriano ma come assumono, che tipo di contratti fanno queste imprese? Occorre avere una partita IVA, magari una prima partita IVA, fanno dei contratti a tempo determinato, come si fa a fare un'esperienza in queste aziende? Peraltro vorrei anche dire, dal mio punto di vista, che il famoso decreto dignità, quello che mette un limite ai contratti a tempo determinato, ha costretto tutti noi a mettere per la strada un sacco di gente. Io lo vedo come una iattura, anche perché l'alternativa non è che io ti assumo a tempo indeterminato, perché ho un vincolo sulle assunzioni a tempo indeterminato. Quello per noi è stato mortale, perché avevamo una serie di giovani ai quali rinnovavamo contratti a tempo determinato. È la soluzione migliore? No davvero, ma attualmente la mia soluzione è ti saluto, perché a me a tempo indeterminato non mi fanno assumere. Quindi questo è un paese pieno di cose che vanno messe a punto. Io sono fiduciosa che con l'associazione, ma anche grazie a tutti voi questi temi li portiamo, sono i temi dell'impresa in Italia. E' l'oggetto della mia domanda. Allora voglio dire, che cosa fanno le Fin Commission? Stanno tentando di sensibilizzare i decisori pubblici perché investano per fare crescere le imprese di questo settore. Io credo che tanto più di questo non si possa fare, perché far partecipare uno sviluppatore di videogioco ha un progetto, ha un bando di produzione di audiovisivo cinematografico. O che senso ha? Anche perché, che ti dico? E ti fa. Quando io aiuto un documentario gli do 30.000 euro, 40.000 euro, cosa del quale per sviluppare un videogioco non ve ne fate di nulla. Dipende dal videogioco. Ci sono videogiochi sviluppabili con 10.000 euro? Ma se c'è stato appena detto e questi di 10.000 euro non si vanno in qua né là, cerchiamo di essere coerenti perlomeno. Vogliamo far crescere questa industria? Se deve essere un'industria o comunque un'impresa, cerchiamo di avere le dimensioni sufficienti per farlo. Se no si parla di che? Di balocchi? Evitiamolo questo. Noi siamo poi dei burocrati. Allora, siamo abituati a chiamare A, B, C di le cose. Se vogliamo discutere di politiche industriali, discutiamo di politiche industriali. Se vogliamo parlare di assistenza di base alla ricerca di un ruolo nel mondo, parliamo di assistenza di base. se noi agiamo per erogare contributi alle imprese, per sviluppare un prodotto, parliamo di imprese. Se invece dobbiamo colloquiare come facciamo ogni settimana con giovani professionisti alla ricerca del loro percorso per posizionarsi nel mondo del lavoro, è un'altra cosa. Nel senso che il referente di Esbi provava a dare una risposta che non sta di qua, sta di là. Nel senso che prima uno deve capire se nella vita vuole iniziare un percorso di impresa o se invece vuole fare il professionista alle dipendenze di un'impresa. Questa è la prima cosa su cui uno deve darsi una risposta e rispetto a questo cercare le strade diverse. Se uno vuol fare il dipendente c'è una situazione, come descrivevi tu dietro, cioè con una dimensione molto limitata di grandi aziende che assumono in un certo modo. Ma non è una cosa che riguarda solo il videogioco, riguarda in generale trasversalmente l'economia della creatività in questo paese. Allora, quando noi parliamo dell'animazione non è che è diverso, quando noi parliamo del cinema non è che parliamo di cose molto differenti, solo che il singolo professionista viaggia da un'azienda all'altra cambiando il referente, il datore di lavoro, perché il datore di lavoro, quell'impresa lì, ahimè come diceva Stefania prima, lavora ancora per prodotto e come diceva lui con una dimensione di flussi finanziari e occupazionali altalenanti. Abbiamo delle aziende che sono delle fissarmoniche, sono dei budelli di salsiccia che a un certo punto arriva il fondo e quindi vado per cinque settimane, viaggia 4 milioni di euro, 5 milioni di euro per produrre quel film, dopodiché si svuota, va tutto nel campo distributivo e quell'azienda rimanda tutti a casa e si viaggia per giornate lavorative, non si viaggia per dimensione di impresa, ci sono delle grossissime aziende, le nostre, poi noi alla fine si sta sotto le 10 unità, le grandi aziende di produzione cinematografica in Italia e metà di loro sono acquisite da capitale straniero, tra parentesi, non è che stiamo parlando, quindi la dimensione del mercato dell'audiovisivo, dal cinema fino al videogame, è una dimensione continentale, non possiamo non ragionare così. Guardi, mi perdoni, faccio un breve inciso, io ho lavorato con la Film Commission Sicilia perché per più di 4 anni ho gestito una tv regionale in Sicilia e abbiamo anche una produzione documentaristica, l'ho gestita in prima persona, quindi in realtà so bene quali sono le problematiche contrattualistiche, so bene quanto costa un lavoratore o un imprenditore italiano, io da un po' di anni mi sono dedicato alla produzione di videogame proprio per altre ragioni e in realtà devo dire che nonostante io possa confermare che la dimensione dell'industria audiovisiva, parliamo di cinema e documentari e anche tv, è ovviamente magra, sparuta in Italia, ha molti problemi, mi accorgo che anche per ragioni che reputo culturali, perché ancora il videogame come medium non ha ovviamente un'immagine sdoganata come in altre nazioni, siamo ancora innegabilmente un medium di serie B visto con sospetto, ancora la distinzione tra appunto videogame per ragazzini e videogame per adulti è ricorrente, ovviamente è una distinzione penalizzante di solito per il videogame. Quindi è vero quanto dice lei, però è ovvio che da questo punto di vista la mia domanda teneva conto del fatto che probabilmente questo medium ha bisogno ancora di essere spinto un pochino di più rispetto a un cinema che già io ho amici che lavorano nel cinema e so bene i sacrifici che si fanno, non conosco gente ricca nel cinema in Italia, quindi è ovvio che tenevo conto di tutto questo, mi premeva dirlo. Solo due aggiunte, perché poi qui siamo tutti per trovare delle soluzioni insieme ovviamente non per appunto, uno è il tema diciamo soluzioni di impresa, Stefani diceva da un lato bisogna allargare la committenza ed è un terreno, dall'altro bisogna allargare le azioni di sistema sulle politiche di impresa al servizio del videogioco ed è un'azione di sistema però, non è un sostegno ad un prodotto, quindi ci sono diversificazioni di politiche, dalla più bassa di cui parlava lui, le start up, fino invece alle reti di impresa, rafforzamento della formazione, la creazione anche di un'organizzazione di categoria, nel senso che voi, presumo, vi sentiate annusando, perché sì, la ESVI c'è però poi alla fine ci sono dei tavoli su cui le politiche regionali vengono condivise e quindi è utile che ci siano anche le grandi centrali organizzative dell'impresa in Italia, è utile che la CNA, la Lega delle Cooperative, un'industria abbiano una sensibilità su questo, perché su questo si spingono le politiche di impresa, in questo Paese, allora un conto è l'organizzazione di categoria specifica, però poi a un certo punto nei tavoli, così come esiste la rappresentatività sindacale, esiste anche la forza di stare su dei tavoli per orientare le politiche pubbliche e su questo ogni organizzazione che vuole rappresentare degli interessi, il tema del potere della rappresentanza se lo deve porre e quindi questo è un tema. L'altro tema invece, secondo me, è non abbandonare il fatto che sui territori delle piccole opportunità per chi vuole avvicinarsi a questo, diciamo, mondo ci sono, perché i comuni sul livello invece del singolo, del giovane artista, del giovane professionista, delle piccole innovazioni, in realtà ci sono. I comuni dell'Emilia Romagna sono associati insieme sulla creatività giovanile con un'associazione che si chiama GAER, è il circuito dei giovani artisti, in passato ha anche aiutato questo tipo di attività. Il comune di Bologna, d'altronde, i Vipro nasce anche all'interno di un bando di un comune, incredible, a un certo punto ha messo a bando alcune azioni, alcune risorse per sviluppare quello. Quando poi si arriva invece al rango della relazione con la regione, no, lì per quanto ci riguarda dobbiamo parlare di impresa, di azienda, di soggetti che possono essere destinatari di contributi anche alla finalità di crescita di un'impresa culturale. Parliamo di impresa culturale, non c'è dubbio, però parliamo anche di impresa, non vorrei che questa cosa ce la dimenticassi. Guardi, l'attività culturale è attività di impresa, questo per me, ripeto, faccio il producer e non il creativo, mi occupo di numeri e devo portare tutto nelle deadline, quindi è un'altra risposta. Sì, allora, grazie Gero per l'input e lo stimolo. Allora, cosa fa Aesvi? E così in parte provo anche a rispondere all'input che è arrivato poc'anzi. Allora, è chiaro che, dicevo, noi abbiamo un ritardo da scontare come Paese a livello di cognizione delle potenzialità del settore e quindi di supporto attraverso politiche pubbliche. Cosa stiamo cercando di fare? Esiste la legge cinema, esiste una previsione di allargamento del tax credit verso videogiochi, non è ancora in vigore perché manca il decreto attuativo, il testo del decreto attuativo giace su una scrivania, è lì, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo dato, consegnato, loro ci devono riflettere, eccetera. Ovviamente cade un governo, questa roba non aiuta per niente. Ogni volta che si riparte è come con Penelope, si sfilaccia tutto e si ricomincia e non va bene perché perdiamo tempo e ci facciamo male. Purtroppo ci tocca questo e quindi adesso ricominceremo. Speriamo di portare a termine, di portare il risultato. A cosa serve questo? Serve al piccolo sviluppatore del tax credit? Direttamente nì. A cosa serve maggiormente? Serve ad attrarre l'investimento dove ci sono le risorse, cioè fuori dall'Italia, dove ci sono dei player internazionali grandi o quei soggetti italiani che sono strutturati e che hanno le risorse per fare degli investimenti e ce ne sono alcuni, prima ne abbiamo citato qualcuno, devono poter investire e trovare un vantaggio fiscale a investire come avviene per tutti gli altri settori creativo-culturali e come avviene soprattutto nel resto del mondo e solo in Italia ancora non avviene. Quindi questo è un grande tema su cui noi siamo molto impegnati. Vale la pena ricordarlo perché è un tema di attualità, il famoso regolamento agico eccetera, che noi siamo impegnati anche in un altro senso, non solo nel cercare di promuovere delle politiche nazionali e quindi qualcosa di positivo, ma anche per difendere. Perché ogni tanto quello che noi consideriamo lo status quo a cui ci siamo abituati, a livello di norme, di possibilità eccetera, all'ambiente a cui ci siamo abituati come settore, può cambiare. Domani si sveglia un legislatore e decide che il videogioco in un certo tipo non può essere più venduto in Italia perché è brutto, è un problema. Quindi noi siamo su tutti quei tavoli costantemente sul fronte, a livello di monitoraggio legislativo, a livello di trattativa eccetera, per cercare anche di difendere alcune caratteristiche peculiari del nostro settore che già è in ritardo a livello territoriale. Poi se ci aggiungiamo pure qualche mazzata là sopra diciamo che no? Bene. Quindi questo è quello che fa ESVI e siamo impegnati in questo senso su N fronti. Perché è importante per noi, e provo a ricondurre anche la discussione al tema di questo evento, insomma perché mi sembra anche un peccato per Andrea che ha organizzato tutta questa roba e stiamo partendo per la tangente verso altri fronti. Perché è importante, come diceva Stefania, allargare la committenza, il fatto che a ESVI, che il sistema delle film commission e che alcuni attori istituzionali cerchino di mettere in campo delle misure che fanno sì che più soggetti investano sul videogioco con una committenza pubblica. Perché, e questo è importante dirselo anche per fornire una panoramica più chiara di come funziona il settore, i soggetti medio-piccoli che vivono bene, che lavorano, che hanno trovato un equilibrio a livello di reddittività, di sostenibilità economica eccetera, in Italia, tipicamente, e questo noi lo stiamo misurando con apposite rilevazioni che stiamo conducendo tra i nostri soci, tra le aziende del settore in Italia, si reggono su uno schema per cui da un lato portano avanti una produzione su una propria IP, una propria proprietà intellettuale che è finalizzata al lancio di un prodotto commerciale che non si sa se venderà o non venderà, se sfonderà o non sfonderà sul mercato, però è il progetto diciamo di lungo termine, cioè quello di sfondare e di creare un'IP. Però giustamente tu un ciclo produttivo di due anni, due anni e mezzo, tre anni, più di tre anni c'è qualche problema, ecco, un ciclo produttivo di questa lunghezza necessita di un investimento, di una disponibilità finanziaria che ti permetta di pagare persone che devono lavorare per tutti quei mesi, devi dare uno stipendio, ma anche basso in partenza, ma qualcosa la dovrei pure dare. Come ti reggi per 24-36 mesi in queste condizioni? Ti reggi facendo B2B, la maggior parte, la quasi totalità, la totalità di queste realtà che operano sul mercato italiano, mi dice Andrea, si reggono portando avanti il B2B. Il B2B significa lavorare con una committenza privata, spesso, per lo più, perché un'azienda privata che ti assegna una commessa per fare un advert game, per fare un gioco per la formazione interna, eccetera, te lo dà senza procedure complesse e ti paga, a meno che non sta in guai finanziari, ma ti paga sicuramente velocemente con una tempistica compatibile con i tuoi flussi di cassa, oppure lavori con il pubblico, con un committente pubblico. Quindi allargare la committenza pubblica significa aiutare gli sviluppatori italiani medio-piccoli a finanziarsi e ad autofinanziare lo sviluppo di prodotti commerciali di intrattenimento. È fondamentale per noi stimolare questo lato del mercato. Poi c'è un problema, torno a dire brevemente, che il pubblico non paga subito, ha un modo di rapportarsi con le aziende del nostro settore che è molto farraginoso, il rapporto quindi lungo questo ciclo produttivo di questo prodotto B2B è poco allineato rispetto a quello che è il modo in cui le aziende del nostro settore operano tipicamente e questo è un problema da affrontare e da risolvere e su cui, ripeto, non ci aiuta la confusione che viene indotta da situazioni, casi, modelli che vengono elevati a modello e che non ci aiutano ad andare nella direzione giusta. Quindi noi speriamo e come ESVI cerchiamo in questo senso non solo di allargare la committenza ma anche di formare il committente pubblico nel comprendere com'è meglio approcciarsi al nostro settore per avere anche dei risultati che, vi va a Dio, siano anche efficaci perché poi non ci vuole niente a fare, torno a dire, il gioco a basso budget. Ripeto, non parlo di prodotti indie, commerciali che con 10k magari uno lo fa sperimentalmente, team minuscolo, one man team, tutto quello che volete funziona. Ma se parliamo di un prodotto per un committente pubblico che abbia degli obiettivi realistici e sensati, cioè se si deve fare il gioco di questo castello, questo gioco deve portare a un tasso di conversione tale per cui ogni 100 download io devo vedere almeno due persone che arrivano, cinque persone che arrivano qua tramite quell'applicazione perché anche se faccio un milione di download ma non viene nessuno e l'ho fatto con 10k o 5k o 15k è un progetto fallimentare. Allora bisogna che ci sia consapevolezza, presa di coscienza anche da parte del committente pubblico rispetto a quali sono le metriche giuste da considerare, al valore del fatto che non solo si deve affidare la committenza e quindi ottenere un prodotto finito ma poi lo si deve monitorare, spingere a livello di comunicazione eccetera, quindi va fatta una programmazione, una progettazione complessa e ampia, tutti i concetti che il pubblico purtroppo non è sempre reattivo a far provo, però noi ci lavoriamo perché è importante da questo lato anche allargare la committenza. Grazie mille, io purtroppo ho sempre l'incratto campito di tagliare, direi che a questo punto finiamo gli Vipro Days, ci tenevo comunque a ringraziare gli ospiti che sono venuti qui a... come? No, no, ci tenevo a fare... Ci voleva tipo squilli di trombi, la rullo di trombi, quella cosa lì. Comunque, ci tenevo a ringraziare veramente gli ospiti che sono venuti qui al tavolo e tutti i relatori di queste due giornate, alcuni sono già tornati a casa, però alcuni sono ancora qui, ci tenevo a ringraziare e ci tenevo a ringraziare anche gli organizzatori, perché non ci sono solo io, c'è anche Maddalena Grattarola, Marina Rossi di Meppens, Mauro Salvador, Stefano Caselli, abbiamo lavorato in questi mesi per portare questo evento, ringraziamo la Regione che comunque ci ha reso possibile questo evento e il Comune di Ferrara, per cui ci tenevo insieme anche al partner tecnico e ci tenevo a ringraziare tutti questi nostri compagni di viaggio, niente, quindi vi ringrazio per essere stati qui, spero vi siano piaciute queste due giornate, siano state utili e ci rivediamo il prossimo anno, il 2020. Grazie mille.